Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, in questo video vedremo il nuovo negozio di Mirko e Marco Quindi all'inizio Mirko e Marco vendono degli oggetti nella tenda, poi decidono di aprire il negozio con i materiali da voi raccolti Successivamente lo espanderanno nella bottega di Nock che vi mostrerò adesso Che è un negozio molto più fornito, molto più pregiato e interessante dove potete trovare degli oggetti davvero esclusivi Ogni giorno vi sono questi tre oggetti, il cui costo a volte è stellare, più questi due oggettini che hanno un costo più ridotto Oltre naturalmente la possibilità, come prima, di accedere ai vari oggetti consumabili Tra cui le fionde, le pale, l'annaffiatoio, l'ascia fragile, gli ombrellini, eccetera eccetera Ovviamente io vi consiglio di fabbricarvi il fai da te per esperti, appassionati e principianti Quindi acquistare questi tre progetti e impararli perché vi permetteranno di creare molti e molti oggetti esclusivi Che vi potrebbero tornare utili Ovviamente nel negozio potete sempre vendere i vostri prodotti E c'è da dire una cosa che, come vi ho già anticipato in un video Vendere gli oggetti all'interno del negozio ha un ricavo maggiore rispetto a venderli all'esterno Inoltre potete chiedere l'articolo del giorno o consultarlo fuori In questo caso oggi è il tavolo, blocchi di legno e il vaso Sono ben due oggetti che se li vendete ottenete il doppio Potete ovviamente venderne a quantità industriale, non vi sono limiti Oppure conoscere il prezzo delle rape Successivamente avrete la possibilità di commerciare le rape E guadagnare molti soldi, o meglio molte stelline Se uscite fuori, come vi ho mostrato in un altro video Avete la possibilità di vendere i vostri oggetti nella cassetta qui di sicurezza Ma io vi consiglio di farlo solo quando il negozio è chiuso Perché la cassetta vi permette di guadagnare un compenso minore rispetto a vendere gli oggetti all'interno Quindi quando il negozio è chiuso utilizzate questa cassetta in modo che il giorno seguente ricevete l'assegno Quando è aperto andate direttamente dentro Per quanto riguarda invece il valore doppio degli oggetti richiesti Non vendetelo mai, l'oggetto richiesto dico, qui Ma vendetelo sempre dentro Ovviamente la richiesta è valida fino a quando il negozio è aperto Perché poi quando il negozio chiude la sera Se vendete l'oggetto qui, anche durante il giorno guadagnate il prezzo normale Mentre dentro il doppio Tenete bene a mente questa cosa Invece interagendo con la bacheca potete conoscere ovviamente l'oggetto o gli oggetti del giorno Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming E per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento